Paesà nasce come un ampliamento del punto di vista sull'immediato dopoguerra rispetto a Roma Città Aperta. La Roma Città Aperta è un film filmato a livello di una città. Paesà vuole essere a livello dell'intero paese, dell'intera Italia. E questa volta non ci sono più i nazisti, ma c'è un altro elemento con cui confrontarsi, l'esercito liberatore, in particolare l'esercito statunitense. Bisogna immaginare che cosa può essere stato l'impatto in Italia dell'arrivo degli americani. Un paese chiuso, un paese che aveva scarsi rapporti con l'estero, improvvisamente si trova a doversi confrontare con questa realtà totalmente estranea. Il titolo Paesà vuol dire compaesano. E in un certo senso la storia di Paesà è la storia di come lo straniero, colui che è diverso, può diventare un compaesano. Il film viene cominciato a sceneggiare già prima che Roma città aperta esca nelle sale. Vengono coinvolti alcuni personaggi che si trovano a Roma, americani, e in particolare Klaus Mann, che è il figlio di Thomas Mann, del grande scrittore Thomas Mann, che era a Roma in quel periodo, e Alfred Hayes, che diventerà scrittore a sua volta, che anche lui si trova a Roma. Quindi c'è una partecipazione alla sceneggiatura di americani che possono dare il loro punto di vista. E c'è ancora Amidei, Marcello Pagliero, la sceneggiatura di Paesà è stata costruita da uno stuolo di diversi collaboratori che poi cambiano a seconda degli episodi. Il film nasce sicuramente per la possibilità intravista attraverso Rod Geiger. Durante le riprese di Roma città aperta, un soldato americano che si occupava di cinema New York, era legato, collaborava con Joseph Burstein, vede le riprese del film, era interessato a sapere cosa si faceva nel cinema a Roma, e colpito dalla visione delle prime rush del film, decide di comprare questo film, per una cifra dal suo punto di vista irrisoria, ma per gli italiani formidabile, perché praticamente ha comprato il film per un poco più di ciò che era costato. Finalmente Rossellini ha potuto girare Paesà con tutti i soldi di cui ha bisogno. L'ha girato con pellicola Kodak, di prima scelta proveniente dagli Stati Uniti, e non con gli scarti, con gli spezzoni di diverse marche, con cui era stato costretto a girare Roma città aperta. Rossellini si prende tutto il tempo di cui ha bisogno per pensare il film mentre lo gira. Federico Fellini, che era collaboratore come aiuto regista e anche come cosceneggiatore di Paesà, racconta di queste riprese della sorpresa che lui ha avuto nel assistere alla realizzazione del film. dice che era come un picnic fra amici, l'opposto di ciò a cui lui era abituato come mondo del cinema, un mondo in cui bisognava girare sempre, i tempi erano calcolati al minuto, perché il tempo è denaro. Si ha l'impressione che Rossellini girasse come se fosse in vacanza. Il film è un viaggio dal sud dell'Italia al nord. Per un italiano, il viaggio dal sud al nord, che corrisponde poi alla realtà della liberazione dell'Italia, che è avvenuta gradualmente, dal giugno del 1943, il primo sbarco in Europa dell'esercito americano a sud della Sicilia, a Gela, che è la situazione del primo episodio, fino al nord, non può non ricordare il viaggio alla liberazione dell'Italia di Giuseppe Garibaldi nel 1860. Quindi c'è un parallelo storico implicito nel film, che uno straniero presumibilmente non può intuire, ma per un italiano è appunto il nuovo risorgimento, la liberazione d'Italia come nuovo risorgimento. Da un punto di vista strutturale, Paesà è un film esemplare. È una grande novità a livello anche internazionale l'idea di fare un film a episodi. Rossellini gira legato agli eventi di quello che sta succedendo. Ogni episodio è introdotto da materiale documentaristico che riassume la situazione della guerra in quel momento. Questo materiale documentaristico in qualche maniera si collega alle immagini della finzione in maniera non traumatica. Come se l'episodio non fosse che la continuazione di un cinegiornale? Vida la morte! L'home d'acciaio! Attenzione! Attenzione! Guardate che giupo che sta! Nell'ultimo episodio non c'è bisogno di questo materiale di repertorio perché è già il più documentaristico di tutti l'ultimo episodio. Il tema centrale di Paesà è la possibilità di dialogo fra persone diverse, italiani da una parte, americani dall'altra. Questa possibilità di comprendersi è complessa è complessa perché non si sa chi sono questi americani perché c'è una lingua diversa. Paesà è un film bilingue anzi più che bilingue perché soprattutto nei primi episodi gli italiani parlano in dialetto. E ti assicuro che se non ci sono i sottotitoli per un italiano non è facile capire il siciliano di Carmela nel primo episodio o il napoletano di Pasqua nel secondo episodio. Già nel terzo episodio, quello romano la ragazza aveva imparato l'inglese quindi che vuole entrare nel mondo dello straniero.